Ciao a tutti ragazzi bentorni a questo video da verna Oggi andremo a Entrare in una taverna Siamo entrati in questa taverna qui Mentre non abbiamo registrato abbiamo trovato del ferro E tanto carbone E abbiamo visto della lava si che ci possono essere dei diamanti Stiamo Sta giocando Tommy anche perchè lui dice che se mi trovo dietro Un creeper o uno scheletro mi ammazzo Infatti prima abbiamo trovato un creeper e uno scheletro Qui c'è il nostro canino Sono riuscita ad ucciderli che abbiamo a domestiatura Perchè ce n'erano altri Mettiamo a posto tutto Facciamo ci facciamo un piccolo inferno Facciamo un senno di taglio perchè ci dobbiamo preparare Ok abbiamo sistemato un po' di roba Dopo prima devo mettere a cuocere un pochino di cosa Ah c'è il vetro Abbiamo del vetro per la casa E adesso abbiamo un po' di carne Dobbiamo prendere dell'altro cibo Quindi taglia un altro pochino Ok raga abbiamo preso un po' di Un po' di cibo adesso Proveriamo da domesticare un altro Lupo A domesticaro Ha domesticato un altro cane Ma ci seguono loro nel viaggio Ok Dove è? Ma andiamo Mettiamo la sede qua perchè non lo voglio portare giù Anzi ne portiamo uno giù Quello blu Quello blu Quello blu Dove eravamo andati prima noi Abbiamo visto Tanto come carne abbiamo 24 Sì abbiamo 24 pezzi di carne Quindi credo Ci siamo fatti anche un piccone di ferro Ok siamo quasi sotto Siamo già sotto? Siamo sotto sì Ok siamo sotto Stai togliendo due pezzettini di cobblestone Uno due tre e quattro Quattro Ok Questo vabbè si prende dopo Andiamo a spiegare Allora non dobbiamo a spiegare di qua Bisogna avanti Sì è vero bisognava Sì tommi di là Lo so Sai già non tommi anche perchè ha paura che io muoio direttamente Sennò prendiamo un bel po' di cose Mi sembra l'avevi già detto Siamo livello 9 però Wow 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 Uno zombie? Dai uccidilo con me Wow wow Bravo Ok Ciao lufino Ci sei? Qua c'è il ferro Si prende dopo Ok Non dobbiamo andare nella parte dove c'era Prima guardiamo qua Vabbè Scusa una chiesa pari qua gli avanti Guarda che non è detto Ci sono i diamanti Lo so ma almeno Tentare non no Qui è finito ormai Ok andiamo qua lì dove hai detto Prima Sì dove c'è la lava Marto Vai Sì prendo questi due pezzettini Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Nono Oggi mi sembrava un creeper Oh Gabri Non sai cosa vuol dire questo? Qui nascono gli slime Possiamo fare pistone picciose Che sono la cosa più bella del mondo Gabri Non sai quanto culo abbiamo avuto Quelli che sanno giocare Che sanno Che cosa sono gli slime Che cosa servono E quanto sia raro Trovarli Sanno che è una scoperta bella No no è vero Qua sotto c'è la C'è la palude Quindi non è tanto Difficile trovarli Oddio Ha fatto paura Mi chiamai cane Uccidilo Uccidilo bravo Bravo cane Hai paura del mio cane Bravo cane Cioè bravo cane Oh ma non c'è la La lava allora mi sembra era di dietro Qui allora Era qui probabilmente Sì Ma se c'è l'acqua O se metti acqua e lava insieme Che cos'è Uno scheletro Non so se si vede Mi sa che non si è visto niente No quasi nulla Ma ho appena ucciso uno scheletro Buono buono Vai Quanto dura Ma qua è continua Ragazzi cosa dici Si va qui Vai andiamo Ma mi sembrava oro Oro è raro Sì Abbastanza Se trovassimo uno smeraldo Sarebbe il colmo Ti immagini Gabri Se troviamo uno smeraldo Se troviamo uno Tommy mi stanno fremando Le mani Perché Perché c'è paura Che troviamo uno smeraldo E faccio un urlo Tranquillo Tranquillo Se moriamo Riveniamo a prendere la roba E se non ce la facciamo Moriamo Ah Ecco questa è la prova Che ho ucciso lo scheletro Prima Non l'avevo preso Le droppe Bene Ma che cosa Ah pensavo ci fosse Nella lava sospesa Ecco qua Eh fai un attimo un taglio Che saliamo questa Ok ragazzi Ha appena esploso Un creeper in faccia E non è bello Io ho dato almeno un colpo E l'ho spinto lontano Sì Ci ha tolto un po' di cuore Non c'è niente Non c'è niente Eh Ci rinuncio Ci rinuncio Cosa Questa scala Mi sa che non porta niente Tommy vai al Mi sa che mi sono perso No era qui No lì dove siamo andati Prima Ok la lava dov'era Eccola Dove No Ah ho capito dov'è Sì Ok se l'ha capito lui va bene Ok ragazzi Non abbiamo trovato la lava Però abbiamo trovato Questo posto qui Dove possiamo provare Andarci e vedere cosa c'è Oh cristofer Non c'è Non guardarlo negli occhi Non guardarlo negli occhi Gabriele sai quello che cos'era? Sì Era Un ender Enderman Eh Se ti guarda Se lo guardi ti ammazza Sì Eh Lì possiamo trovare gli amanti Senti Tommy Non cadere però No Lupo Ti sposti Maledetto lupo Ti odio Tommy non sai quanto mi stanno fremando le gambe Perché? Non so Non so Perché hai paura che io muoio e perda tutto Eh E' proprio Eh anch'io Oddio Non ti ho visto Tommy l'avevi visto vero? No non l'ho visto Non si è arrabbiata però Non lo so Lui quando lo guardi si triggera Si triggera male Come se gli avessi detto Tua mamma fa la Fa la Besciamella Con la mortadella Per me l'hai visto Eh mi sa che devi ristoppare Ecco ragazzi Questo era il punto Prima non l'abbiamo trovato a lavare Però noi Sì abbiamo scavato Noi ci si Io gli ho detto Aspetta ma ci sono delle sorge Eh ci siamo già stati qua E lì c'è la lava Raga la lava Alleluia Però c'è un creeper E non fanno bene In ripetita Perché credo Credi bene Va bene Va bene Va bene Lo faccio esplodere Lo faccio esplodere Ok Non è tanto 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 Non so C'è solo E perché non si C'è l'ossidiana Tu mi prendi un po' di ossidiana? No Ci vuole il piccolo diamante C'è l'ossidiana Ok 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 Però di là Vedo roba Ragazzi se troviamo I diamanti Vola tutto E se cado nella lava Vola tutto Eh Più che No Sì sì Tommy No Prova a andare Da quella parte lì Ogni volta sarebbe Se provo a scavare così Hai visto pure Sei quelle gambe? Sì Oh Cane Oh Dio mio Che pò Vabbè Poggiare sto ferro Cattivo cane Mi ha fatto prendere paura Non ti do più la bistecca oggi Vabbè oggi ne dai 4 Ora vuoi che Oro 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 Sono senza parole Perché ne abbiamo trovato anche tanto Sì ma io volevo i diamanti Spero che questo video vi sia piaciuto Qui da Bene è tutto Vi ricordo di iscrivervi ai nostri profili Instagram Qui da Bene è tutto Noi ci vediamo in prossimo video Bella raga